Schio non presentava alcuna dichiarazione fiscale dal 2016 occultando ricavi per oltre 300.000 euro e percepiva inoltre da circa due anni anche il reddito di cittadinanza. È stata la Guardia di Finanza a identificare un evasore totale, un lavoratore autonomo nel settore edile che ora dovrà spiegare al giudice la sua condotta. Avrebbe incassato complessivamente oltre 13.000 euro come sussidio presentando documentazioni che non sarebbero state veritiere e per questo è stato segnalato all'Inps e all'Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte evase e per le somme indebitamente erogate.